Ok, allora Andiamo avanti Ho fatto un piccolo pezzettino poco fa Perché non mi ero scordato di registrare Cioè mi ero registrato senza audio L'ho dovuto rifare ma Ho cambiato solo questa stanza qua e basta Allora saldiamo Andiamo avanti Comunque non parlerò molto Più che altro perché Vorrei Qui c'è sicuro qualcuno Vorrei farvi proprio Assaporare L'ambiente, i suoni Perché le soundtrack in questo gioco sono fighissime Quindi È meglio che mi stasitto Che ho preso? Niente Oh Un'altra bella donna Protetto eh Facciamo così No Forse dovrei fare Così Come no Certo 13 13 13 Scappiamo di qua Eh Allientiamo tantissimo questo Un'altra bella donna Vediamo prima che se ne fa Ok Ora Vai Vai Arte già Perché ci fanno danno a no Sinceramente Eh, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Vuoi delle trasportarti due volte, cogliona? Infortuna non mi sono roba le cose. Allora, facciamo così. Non mi devo scolpare. Cavolo, non mi ha presa, cogliona. Cosa è successo? Che ho ucciso. Che ho ucciso. Ma tolgo, che ho fatto. Processo potenziato. Non mi ha chiamato in posto. Non ho morito. Non mi ha chiamato in posto. Ecco. Che! 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 Mi sembra di servire il tempo Potrebbero quasi finire Qui c'è il salvataggio Ok Dai l'hanno livellato veramente Ok Lo si aspetta con 48 addirittura Un terminal Qual è la buona parola? Hey, hai fatto le linee Non una parola di conclusione Tentiamo di mantenere tutti calmi Sono io Red Vi daremo il corrente sviluppo della situazione Scrivetevi un commento Sto ancora cercando quello Sono ancora qui per ora Non preoccupatevi R Aia Sì, continuiamo a guardare Che c'è? Un boss Finito la domanda Quindi Chi c'è? Trovai per la cambra Mai meno che proprioundredli Devi essere un lider Ma Paul ha un pozzo Oggi come torniamo indietro? no? andiamo avanti invece belli gli scenari oh sto sul palco? no? eh si sembra hanno tolto la vo- I'm going to be a real one Before we all become one Run Before we all become one Run Oh no Where are you? Where are you? Don't be gone, please don't be gone I can't I'm here I'm here I'm still here If she's hurt, if she's hurt I'll... Hey! That you? Oh! Look at you You're alive Hey, say something already Say something, will you? Oh no Oh no I'm here I'm here She's here Look who it is Hey Hello again, Sybil You You See you 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 What the hell? Lost her too What the hell? I'm here 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 She's back Eh 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 Perchè sennò Se era così era scarsissima I see Via Wow Tutti molto calmi eh E niente Zero Cazzo 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 E' una Merda sto Hade Devo In Hade Fu Who core Cazzo ої He Are he Cazzo Có I Sì sì, quattro, dove sta? Aspetta no, mi sta ricaricando la vita Arruttano lì Vedete Sì 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 Non so come ci pare 1200 di vita Merda 3 attacchi eh? no 2 e poi me ne vado un'altra è fastidio quando rimette il braccio? ciao questo è un ranghillo ma che vuoi c'è ma m'ho preso bene proprio sul pello allora 1 2 e 3 ricaricati così ok 1 2 3 ah si ora in piedi la capdos mi vende non so non so attenzione attenzione dove vai? nooo lo sapevo 2 2 5 che cosa non è il mio? che vuole? ecco il definito di matare e non 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 si riguarda non non io Sì, Sibyl. Oltre a Trace. Ciao, Sibyl. I tuoi amici. Voglio che ti diciamo dove sono. Entendete? Come va? Non è ma... Wow! Non c'è la haol! Dove funziona? Nuova autorizzazione e autenticazione, ok. Non siamo votati. Siamo in qualche parte. Il processo sarà aspettato per noi. Vediamo il dock. Non lo so. Grazie a tutti. Allora... Io direi di togliere questo. No. Mi ha messo questa. Seleziona funziona. La mettiamo... A. Installa. Che fa? Danno base alleato, punto di vita alleato. Ok. Aiuto. Post... Load. Danno bar... Danno bark. Installa potenziamento. Quindi chiamo qualcuno, insomma, in poche parole. Sovrà carico. Riparata... Riparata tra uno e altro punto di accesso. Ok. Non posso usare quello, ma tanto non lo uso mai con la spada di me. Io lo faccio così. Sono... Noi... 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 Sono... Noi... 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 La camerata. E' quello che erano i occhi e i occhi? Si è vicino a te? A noi? Stavano scontando le persone. Non so per cosa. Non so per cosa. Fai. Penso che conosco chi lo fa. Prendi loro perché. E ho questo sentimento che ci ci farà. E ho questo sentimento che ci farà ci sapere. Quanto la rivera ci farà? Ok. La ruota a High-Rise dovrebbe essere per il corno. A presto. Questi sono nuovi. Che fai? Screenshot. Che fai? Sì. San messaggio. Cosa. Ci sono messaggi. no, no, 3 jump 1, 2, 3 Oh no. Proceso. Still a step ahead. But they haven't stopped us. Isn't that? MacDawg. What do we have here? Sounds like... Weaves. So... Don't know what I was expecting, but... What? It wasn't this. Cos'è? Fun. Eh? Devi stare a diverti, eh? Transì. A vedere, quando stai a perdere tempo? Numero di rimbalzo 14 volte. No. Let's go. Let's go. That's simple. Always packing up to you and everybody. Show the true colors back there. Wonder how our camarada friends are gonna feel knowing she's leading us straight to them. Undo. Il mio branco, in revisione, non è ancora disponibile. Cosa vuole essere in generale? Eh, lo so che non è Cloudbank. Io ho qui sotto. Se lo tessi velocità non dirò di poterlo fare. Però... Dai no. Qualcosa devo fare. Sand. Water. Nothing. Get ready. Nice shot. Uh... Crash, 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 crash. Ah... Ah... Lo so lo so stai calmo Musica sbloccata in Circles Simpatico Ma aspetti lettore musicale figo Un giubox Cambiamo Costing è questa In Circles Ah, 12 no Un falasino, non me ne andà Sì Sì È un giudice E' un giudice E' un giudice Un giudice Un giudice Un giudice Wow Usa questo limitatore E sopportare gli effetti per ulteriori informazioni Ma no Tipo per essere Rendere tutto più difficile Ripristina il limitatore Vabbè Ah vedi che Eh ok Sono dei malus Per me quando gioco No no Prendiamola normale intanto Eh Cazzo Sono dei malus Prendi Prendi Eh no Ma 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 Cazzo lo schivate diciamo così magari lo schivi così ops ok ok non fa spingare non è possibile è sempre so let me get this straight the camerata they think they can stop you with these process things but you're just getting stronger it's calling him up aha it distracts them it's beautiful that must be how they get here let's rest we better hustle high-rise is dead ahead across the canals much nicer last time we were here get up questi wow allora facciamo jaunt qui poi facciamo così ma poi quanto vita c'hanno che fastidio hey get back here ok 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 No. Good hit. Cluckers. Cluckers. What's that all about? Here we go again. Vedere qua. Switch. Cush. Ehm, limitatori, trick e palle. Perciò sì, c'erano delle celle doppie che non vengono eliminati. Bello. Quindi se li prendo tutti e due... Attaccheranno con il doppio... Ma no, ma no. Fermo. Abbondanza. Quindi dovrei livellare il... Ma che soffa? Saffattaggio. Ups. Muori direttamente. Ups. Ma cosa? Non sei morto? Ma che cavolo da te? Siamo tornati. No. No. Una, due. Poi... mi vedete il cazzo è un po' forte è semplice più un sabotaggio è un attimo credo che è pieno ah, devo togliere qualcosa e che tolgo credo che è pieno che devo togliere? no, non mi interessa limitatori per il per questo ci sono questo c'è io direi di attivarlo un po' il cielo il cielo sembra blu perché ci vogliamo perché ci vogliamo vedete Ecco, così vanno tutti e tre. Quattro, così vanno. Grazie a tutti. Allora. Mori adesso. Allora. 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 Time's almost up. Oh, no. Oh, no. Eh, vabbè. Non ci credo. Questo dovrei prima concentrarmi su... Bella signora, qua. Eh, vabbè. Non ci credo. Oh, vabbè. Non ci credo... Non ci credo. Oh, vabbè. Non ci credo. Ah, non c'è lato. Ah, non c'è l'ho, non c'è l'ho, non c'è l'ho. Ah, non c'è l'ho, non c'è l'ho, non c'è l'ho. Ah, non c'è l'ho, non c'è l'ho, non c'è l'ho. Ah, non c'è l'ho, non c'è l'ho, non c'è l'ho. Ah, non c'è l'ho. Ah, non c'è l'ho, non c'è l'ho. Ah, non c'è l'ho, non c'è l'ho. Ah, non c'è l'ho. Ah, non c'è l'ho, non c'è l'ho. Ah, non c'è l'ho, non c'è l'ho, non c'è l'ho, non c'è l'ho. Ah, 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 non c'è l'ho. Cheerleader, Psycho, Mom. Ready for more? Non è ancora finita la storia, ma che sto parlando? Ok Oh no get out of our town yes head on in coast is clear so it's true red let's go while we still can used to be how many good drinking joints here caddies seaside cloud alley more hot more hot Wonderful too much 어떤 have you I saw you start me ne scappo di qua cazzo insomma cosa schivi cazzo cazzo insomma Non è una cosa. Merda, non è niente. No, no. Perché si riparano? Che è successo? Ah, fuscello che è del cura, eh? Ma to' mo' me ne devo accorgere, forse Allora, John, qui, poi Uno, due, tre Oh, ho, ho, ho Allora, c'è l'unico Niente Sì, questo è quello che il Camerato vuol essere Wow Tiere Hi-Rise Non si salvava una volta Eccolo Ok Ok